Urne aperte oggi all'Università di Trento. I professori Carlo Buzzi, Paolo Gatti, Aronne Armanini e Fabio Casati sono i quattro membri elettivi del Senato accademico. A deciderli sono stati oggi i docenti e i ricercatori dell'Ateneo. A loro si andranno ad aggiungere nelle prossime settimane altri tre professori ordinari scelti dalla rettrice stessa Daria De Pretis. L'affluenza è stata del 76%. Il Senato accademico è l'organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo.